Buon pomeriggio, benvenuti a Costruire il Futuro, un saluto a tutti coloro che ci seguono in streaming e naturalmente un saluto a Piero Angela perché è lui il nostro primo spettatore, anche se remoto. Riprendiamo, riprendiamo in un giorno diverso dal solito, ma poi si ritorna al nostro martedì, dalla prossima settimana e spero che finisca anche questa distrazione di carnevale che forse ha un poco colpito la giornata di oggi, che è molto interessante. Il tema è il mondo cambia, come sapete, e lo vedremo da due punti di vista. Il punto di vista di come è cambiato il metodo che finora è stato escogitato come il migliore, anche se è il meno peggio di tutti gli altri, si suol dire, che è la democrazia, come cambia il modo di governarci. E poi parleremo invece allargando lo sguardo di geopolitica, cercheremo di capire come cambia il mondo e quindi anche come cambiano le democrazie nel mondo. In realtà i temi che si tratteranno oggi sono moltissimi e molto intrecciati tra di loro. Richard Smalley, che è un premio Nobel per la chimica, fu uno dei tre premiati per la scoperta del fullerene, quella molecola di 60 atomi di carbonio fatti, messi, disposti come un pallone da calcio. Smalley fece una volta una classifica dei dieci problemi, dei dieci maggiori problemi del mondo, nel secolo che stiamo vivendo. E questa classifica è la seguente, nell'ordine, una top ten. Energia, il primo problema. Ne parleremo in una riunione specifica del nostro martedì di Costruire il Futuro, proprio esclusivamente di energia. Comunque è uno dei temi, quello che Smalley ha messo il primo posto. Al secondo ha messo l'acqua, al terzo il cibo, poi l'ambiente, la povertà, la guerra, le malattie, l'educazione, la democrazia e la popolazione. La democrazia l'ha messa al penultimo posto in questa scala di dieci problemi. In realtà, secondo me, e poi adesso sentiremo i nostri oratori, è impossibile fare una graduatoria di questi problemi. Sono tutti importanti e uno contiene tutti gli altri, ognuno contiene tutti gli altri, sostanzialmente. E in particolare credo che democrazia sia proprio uno dei temi che più sono onnicomprensivi di tutti i problemi che noi abbiamo. Ma anche l'educazione, che è la cosa che cerchiamo di fare a costruire il futuro, comprende tutti gli altri. E certamente non si fa educazione, non c'è democrazia se non c'è energia e così via. C'è tutto un seguito di fattori assolutamente intrecciati tra di loro. Ed è la complessità contemporanea questa. E' la cosa con cui dobbiamo fare i conti e con cui cerca di fare i conti costruire il futuro. Oggi partiamo però un po' da lontano nel tempo, perché parleremo innanzitutto di democrazia. Poi sarà con Alessandro Barbero, che è qui accanto a me, che ringrazio naturalmente di aver accettato di partecipare. Poi ringrazio moltissimo Paolo Magri, che vedo là in prima fila e che interverrà subito dopo Alessandro Barbero. Paolo Magri ha un tema bellissimo, il tema è paesaggi del futuro. E credo che questa espressione l'abbia trovata lui stesso, come titolo di questa presentazione. Quindi ci addentreremo in questi paesaggi tra poco. Ma con Alessandro Barbero incominciavo a capire come è nata e come si è evoluta la democrazia. E' una storia che comincia almeno, forse anche di più, ma almeno 2500 anni fa in Grecia. E che poi forse non ha mai portato a una democrazia piena. E oggi vedremo, credo che vedremo, che il concetto stesso di democrazia è sottoposto a una nuova revisione. Una revisione che è tecnologica in parte, nel senso che ci sono oggi degli stati non stati, che però hanno bilanci da stati. E sto pensando delle multinazionali, delle comunicazioni. che in qualche modo stanno modificando la nostra idea di democrazia. E sono, se noi li guardiamo in modo approfondito, forse dei poteri dittatoriali che si presentano come democratici. Che si presentano come poteri che ci distribuiscono una nuova democrazia, una democrazia diretta. Ma è davvero così? Partiamo dalla Grecia. Alessandro Barbero, di lui vorrei dirvi solo pochissime cose. È laureato in storia medievale all'Università di Torino. Si è perfezionata la normale di Pisa. Dal 2004 è ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale. Ha scritto moltissimi saggi, ma scrive anche di narrativa. Ha vinto il premio Strega di Narrativa nel 1996. Ritiro Stresa, perché c'è anche un premio Stresa, ma è molto meno importante dello Strega, naturalmente. Ha un'attività divulgativa molto, molto intensa. In televisione, lo vedete spesso nel Superquar con Piero Angela, ma non solo lì, ma anche in Reistory, altri programmi televisivi. Partecipa a iniziative di alta divulgazione, come il Festival della Mente di Sarzana. Collabora a quello che è stato ed è ancora il mio giornale, e cioè la stampa e tutto libri. Alessandro Barbero. Grazie. Bene, buongiorno. Sì, con Paolo Magri ci siamo chiesti a lungo se era meglio che cominciassi quest'oggi io, che parlo del passato, o lui che parlerà del futuro. Alla fine, banalmente, abbiamo deciso che era meglio che cominciassi io. E quindi il passato di una nozione che oggi non sarà il primo dei problemi, ma è uno dei problemi che abbiamo in ballo. Democrazia. Una parola che usiamo tutti, o che perlomeno sentiamo usare, che diamo per scontata, e che invece non è affatto ovvio che cosa voglia dire e che cosa sia. Allora, vediamo cosa è stata la democrazia fino ad oggi. Io sono andato a cercare la prima volta che la parola democrazia compare in lingua italiana. Compare nel Rinascimento, più precisamente nel Cinquecento. E uno dei primissimi autori che la usano è uno scrittore che era famoso all'epoca, Tommaso Garzoni. Oggi dimenticato, era un tipo piuttosto bizzarro, che in pochi anni ha scritto un sacco di libri stranissimi. Fra l'altro è il primo che usa democrazia con un giudizio specifico. Quando la moltitudine, ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta dal furore, si delibera a vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. L'ira e il furore. Siamo nell'Italia della controriforma e, per uno spirito molto intelligente, ma è un uomo di chiesa, è uno del ceto dirigente, sembra ovvio che democrazia significa automaticamente qualcosa da associare al caos, alla violenza, anche quando si può capire il popolo oppresso ingiustamente. Ma allora qual è il punto? Bisogna che il buon popolo sia governato con giustizia. Se il buon popolo è governato con giustizia, non avrà motivo di lasciarsi trascinare dall'ira e dal furore e di pretendere quella cosa folle che è, appunto, l'amministrazione del popolo, la democrazia. Così Tommaso Garzoni alla fine del Cinquecento. Nello stesso secolo, in realtà, qualche altro autore aveva già usato questa parola, ma la usavano tutte nello stesso contesto, raccontando di cosa parlavano Platone e Aristotele. In altre parole, la parola democrazia comincia a essere usata in italiano nel 1500. Ma non dobbiamo credere che siccome prima la parola non c'era in italiano, allora la parola e il concetto non esistevano. La gente che pensava, che studiava, che leggeva, che scriveva, non lo faceva mica solo in italiano, anzi, lo faceva soprattutto in latino e in greco. E quindi tutti, tutti quelli che studiavano, avevano sempre conosciuto la parola democrazia, ma la consideravano una parola, come dire, come noi potremmo parlare dell'impero persiano. Era una forma di governo che era esistita tantissimo tempo fa e di cui poi si erano completamente perse le tracce, per molti e molti secoli. Che la democrazia l'abbiano inventata i greci è un luogo comune, che avrete sentito dire anche voi qualche volta. Naturalmente i greci non hanno inventato solo la democrazia, hanno inventato diverse altre forme di governo. I greci potevano vivere, vivevano tutti in città-stato, ma queste città-stato potevano essere governate in modi molto diversi. E c'erano fondamentalmente tre modi di governare una città. La tirannide, che a noi oggi sembra una brutta parola, per loro era un termine tecnico. La tirannide è quando governa uno solo, che ha saputo costruirsi il consenso per cui la città accetta di essere governata da lui. Di per sé la tirannide è un termine neutro. Bisogna vedere cosa fa il tiranno. Se il consenso se l'è costruito facendo ammazzare un sacco di gente e seminando il terrore, allora può darsi che non sia un buon governo. Se il consenso se l'è conquistato invece favorendo il popolo con saggi provvedimenti, allora la tirannide può anche andare benissimo. Ma è sempre chiaro che si tratta di una categoria specifica. Uno solo comanda. Oppure, oppure possono comandare in pochi. e allora si chiama oligarchia. Qualcuno dei fanatici dell'oligarchia a questo punto nell'antica Grecia precisava momento, capiamoci, governano in pochi, governano i migliori. E se governano i migliori, i più saggi, i più esperti e così via, è chiaro che la città sarà ben governata. Ma questo era un punto di vista di parte. Quelli che osservavano le cose freddamente per descrivere come va il mondo e non per difendere una posizione o un'altra, non si sono mai sognati di dire l'oligarchia è quando governano i migliori. Col cavolo, l'oligarchia è quando governano in pochi. Che poi siano i migliori. E tutto da vedere. Non è detto che siano i migliori. Semmai quello che si può dire è che quando c'è un'oligarchia, di solito, quei pochi che governano sono i più ricchi. Quello sì è un dato di fatto. Sono i più ricchi, sono i più potenti, sono i più nobili. Poi, se siano i migliori, andate a chiedere a loro se sono i migliori. Ma è un fatto meno oggettivo, diciamo così. E poi c'è il terzo sistema, in cui non comanda uno solo, non comandano in pochi, ma comandano in tanti, tutti. Tutto il popolo. La democrazia. E i greci la democrazia hanno provato a farla funzionare sul serio. Non tutti. Molte città greche della democrazia se ne fregavano altamente e non l'hanno mai avuta. Altre l'hanno avuta. E l'ha avuta la più importante di tutte, quella che noi conosciamo meglio, Atene, che da sola ha prodotto gran parte delle cose che noi attribuiamo alla civiltà greca e che invece in realtà hanno fatto ad Atene. Allora Atene ha provato a mettere in pratica la democrazia. Cosa voleva dire a questo punto la democrazia? Voleva dire una roba che con la democrazia, come la intendiamo noi, e mi direte voi se c'entra e fin dove c'entra. La democrazia ad Atene vuol dire la seguente cosa. Il popolo decide, quindi c'è un grosso problema, una decisione da prendere, o anche una piccola, tutti i giorni c'è da prendere decisioni. Benissimo. Tutti i cittadini che hanno voglia di andarci vanno all'assemblea. L'assemblea si riunisce anche tutti i giorni se c'è bisogno. Ogni volta che bisogna decidere una cosa. Dichiariamo guerra a Sparta? Ecco, dichiariamo guerra a Sparta è una roba grossa. È una di quelle cose in cui si dice l'assemblea bisogna farla e bisogna che venga tanta gente. Quando c'è bisogno che venga tanta gente, si rispolverano i regolamenti, i quali regolamenti dicono nelle assemblee plenarie ci devono venire tutti. Se uno non viene gli mandiamo la multa a casa. E si mandano in piazza i poliziotti a spingere la gente verso la collina dell'assemblea in casi estremi. In casi meno estremi chi c'è c'è, chi se ne frega, vediamo chi c'è. Dopodiché chi c'è c'è, uno sale su un podio come questo e dice ragazzi l'ordine del giorno sarebbe questo. Dichiariamo guerra a Sparta? Venga uno a parlare a favore. E viene uno a spiegare perché bisogna dichiarare guerra a Sparta. E venga uno a parlare contro. E viene uno a dire no, non è il caso. E poi? E poi sì, 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 tum 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 sì, sì, sì. E vede, l'assemblea approva. Si fa la guerra a Sparta. E questo è la democrazia. Dopodiché a un certo punto decideranno sì, ma io ho dovuto chiudere bottega per andare all'assemblea. Chi me la paga la giornata? Non c'è problema. Lo Stato te la paga. Il cittadino che va all'assemblea a votare quel giorno lo Stato gli paga la giornata di lavoro. Questa è la democrazia. Poi, ben inteso, è molto facile prenderli in giro dicendo sì, democrazia dal vostro punto di vista. Tu prendi un'ateniese e gli dici scusami ma gli schiavi votano? Figurati. Non dè ne buffonate. Figurati se gli schiavi votano. E gli immigrati votano. Atene è piena di immigrati. Noi li chiamiamo perché si cerca sempre di non far capire le cose meteci che è la parola che usavano loro. che è anche una parola più carina rispetto a immigrati perché vuol dire quelli che abitano con noi. Allora, i meteci votano? Ma figurati, non dire stupidaggini. Figurati se votano. E le donne votano? Ma provochi allora? Eh, figurati un po' se le donne votano. Quindi è chiaro che dal nostro punto di vista può sembrare una concezione molto limitata di democrazia. Votano i maschi adulti che sono nati cittadini. Però tutti. anche quello che non ha un soldo anche quello che campa facendo il facchino ai mercati generali. Lui vota e il suo voto vale come quello del gran signore. E tutte le decisioni si prendono lì e i cittadini sono pagati per andarci. E i tribunali? Stessa cosa. Non abbiamo bisogno di una magistratura specializzata. Si sorteggiano 500 cittadini pagati e i 500 cittadini per qualche settimana sono il tribunale e decidono tutti i processi. E la democrazia. Ci mancherebbe che non fossero i cittadini a decidere le cose. Chiaro che poi è facile citare esempi in cui l'assemblea prende decisioni che poi col senno di poi risultano prese in modo affrettato tante volte guerra del Peloponneso Atene sta combattendo per la vita e per la morte contro Sparta per l'appunto dopo che l'assemblea entusiasta ha detto si 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 guerra 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 poi la guerra la stanno perdendo e poi vincono arriva notizia che hanno vinto una grande battaglia navale l'ultima l'ultima grande battaglia navale che vincono alle isole Arginuse hanno vinto fantastico riuniamo subito l'assemblea per dare la medaglia agli ammiragli dodici ammiragli nominati provate a indovinare dall'assemblea l'assemblea nomina i generali gli ammiragli e ci mancherebbe la democrazia dopodiché arriva notizia che gli ammiragli non hanno raccolto in mare i cadaveri dei morti e anche i naufraghi non si sono fermati a raccoglierli di colpo l'assemblea cambia umore non hanno raccolto i naufraghi non hanno raccolto i morti che è molto peggio li hanno lasciati lì in mare anziché dargli sepoltura perché qualcuno spiega c'è stata una tempesta non poteva non importa l'assemblea è fuori di sé mozione condanniamo a morte gli ammiragli sì 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 condannano a morte gli ammiragli che hanno appena vinto l'ultima grande battaglia oppure in tribunale 500 cittadini tirati a sorte gli portano davanti Socrate e gli dicono signori Socrate è accusato di impietà e l'avete sentito tutti insegnare tornano a casa i nostri ragazzi che vanno a scuola da lui e gli mette in testa idee strane il bene il male il giusto lo sbagliato non si sa più se ci sono gli dei ci sono ecco non si capisce bene cosa insegna questo Socrate ma secondo noi insegna cose sbagliate e tutti i disastri che ci capitano sono colpa di questo Socrate allora ordine del giorno cittadini condanniamo a morte Socrate e votano e la maggioranza condanna a morte Socrate allora è chiaro che in questo sistema è molto facile dire ma vedi che cazzate che fanno quelli delle ecco non puoi e ci sono quelli che dicono dovremmo governare noi i migliori c'è uno scontro furibondo nella Grecia antica ci sono quelli che scrivono i trattati per dire ma guardate che la vostra democrazia fa schifo è un sistema demenziale che dà il potere a gente che non capisce niente chi deve governare siamo noi dice i migliori i ricchi diciamolo noi i ricchi che non perdiamo il tempo in bottega che abbiamo tempo per studiare per leggere per far ginnastica andare in palestra occuparci di musica andare a cavallo e chi dovrebbe governare se non noi dopodiché nella Grecia nella Grecia scusate ancora una cosa naturalmente loro sono attenti osservatori del loro sistema li vedono i limiti l'altra cosa che succede è che i democratici dicono però decide il popolo e i loro avversari gli dicono ma mica non è mica vero è facilissimo infinocchiarlo il popolo è pieno di politicanti che sanno parlare bene e che salgono al podio e che sono in grado di far fare all'assemblea qualunque cosa e l'assemblea piena di analfabeti va dietro a questi come vogliamo chiamarli il popolo va dietro il demos va dietro questi sono quelli che lo dirigono i demagoghi è una parola che inventano loro sono quei politicanti senza scrupoli che sanno infinocchiare il popolo e il popolo fa come vogliono loro noi oggi viviamo in un mondo che continua a definirsi democratico e continua a dare valore alla democrazia per cui è ovvio che quando guardando loro e i loro conflitti uno automaticamente sta con la democrazia e secondo me anche lì era vero anche allora quello che citava prima Piero Bianucci e che disse Churchill e cioè la democrazia è un sistema pessimo ma tutti gli altri sono ancora peggio e quindi dopodiché è difficile non vedere anche le ragioni di chi era contro la democrazia è un sistema che se è vera e cioè chiedi alla gente cosa vuole e poi glielo dai può provocare dei disastri il problema è che qual è l'alternativa l'alternativa è che quelli che per conto proprio hanno deciso che loro sono meglio e che si prendono loro il potere nel mondo greco non c'è nessuna illusione sul fatto che ci sia un sistema che è meglio per tutti o meglio tutti a chiacchiere dicono sì no per la città l'interesse della città il bene della città ma gli analisti politici quelli come Aristotele che descrivono come funziona il sistema non hanno nessuna illusione non è che un sistema è meglio dell'altro c'è un sistema che conviene ad alcuni e un sistema che conviene ad altri sempre il popolo sarà in lotta con i ricchi e sempre i ricchi diranno noi vogliamo l'oligarchia perché noi staremo meglio e i ricchi non dicono se non nella propaganda più spudorata l'oligarchia è meglio per tutti i ricchi sinceri dicono noi vogliamo l'oligarchia e ridurre in schiavitù il popolo che è quello che si merita quella masnada di analfabeti di operai di rematori di disoccupati schiavi questo deve essere l'oligarchia e a sua volta il popolo non è che dice il nostro sistema è il migliore per tutti anche i ricchi staranno bene no no la democrazia è un sistema in cui i ricchi stanno male in cui il popolo appena se la prende con un ricco vota e lo manda in esilio lo condanna a morte in cui il ricco deve stare attento a uscire di casa quella è la democrazia come la descrivono i greci stasis lotta lotta tumulto scontro ribellione continua e poi si vede chi vince ecco questi sono i modelli che i greci mettevano in pratica dopodiché c'è un unico modello che loro nelle loro città invece non avevano il re messo lì da dio per governare tutti nell'interesse comune rispondendo direttamente alla volontà del cielo quella roba lì i greci non ce l'hanno sanno che esiste è il gran re è quello che hanno i persiani e i greci costruiscono gran parte della loro identità proprio sul fatto di dire noi quello non lo vogliamo noi non andremo a picchiare la testa per terra davanti al gran re come fanno tutti gli altri gli egiziani i fenici i persiani i medi ecco noi no dopodiché il modello che i greci non prevedono e cioè non comanda né il popolo né i pochi né uno solo che si è costruito un consenso e quindi è riuscito a diventare il capo ma invece comanda uno solo che è stato messo lì da dio e prima di lui suo padre e dopo di lui suo figlio questo modello che era l'unico che i greci non prevedevano come sapete tutti è invece quello che si impone a un certo punto nel mondo antico e che rimane praticamente l'unico modello esistente negli ultimi secoli dell'antichità e poi in tutto il medioevo e poi attraverso l'età moderna la monarchia l'impero romano l'impero romano è quello l'impero romano è la rinuncia alla politica perché tanto ognuno farà sempre i suoi interessi contrastanti non puoi lasciare il potere in mano al popolo e neanche in mano ai ricchi ci deve essere uno che comanda da solo ma perché comandi da solo e la cosa funzioni i greci l'hanno visto con i tiranni il tiranno si fa da sé e poi lo buttano giù invece se vogliamo che duri bisogna spiegare che il sovrano è Dio che l'ha messo lì e mettersi contro l'imperatore vuol dire mettersi contro Dio e questa cosa spazza via qualunque altra forma politica a partire da augusto progressivamente si perde anche il ricordo di sistemi democratici poi è chiaro in un impero ci sono mille città mille regioni mille interessi gruppi sociali localmente si fa politica in città per il municipio ma globalmente il sistema è solo quello la monarchia la monarchia assoluta divina sacra di diritto divino con un imperatore che non è nemmeno un uomo ma è una specie di Dio davanti a cui è come se si picchia la testa per terra quando ti riceve questo sistema in occidente e anche in oriente peraltro è l'unico che esiste durante tutto l'impero romano e poi è trasmesso al medioevo nei regni romano barbarici i re barbari Longobardi Franchi fino a Carlo Magno continuano a incarnare lo stesso modello io sto su questo trono perché Dio mi ha messo qui e il potere è tutto mio poi ovviamente c'è un sottinteso Dio mi ha messo qui per il bene dell'umanità non è che io non devo fare il bene dell'umanità però decido io che cos'è il bene dell'umanità questo sistema continua a essere l'unico in pratica per tutto il medioevo e l'età moderna ma a partire da un certo momento nel medioevo comincia a non essere più così indiscusso e questa è una delle trasformazioni più importanti della nostra storia perché apre la strada molto lentamente al ritorno della democrazia o meglio alla nascita di una roba che in mancanza di meglio chiamiamo democrazia cosa succede a un certo punto nel medioevo succede che in questo mondo che continua come nell'antichità a dire gli imperatori e i re sono messi lì da Dio e ognuno gli deve obbedire per definizione a un certo punto mi giocherei qualcosa che tutti voi a scuola avete studiato o per i più giovani studierete ma no avete già studiato tutti sicuramente un noiosissimo capitolo del manuale di storia che si intitola la lotta per le investiture allora la lotta per le investiture quindi conflitto tra papato e impero Gregorio VII Enrico IV allora nel momento in cui il papato e quindi un potere religioso si candida nel medioevo a dirigere l'Europa pretendendo che anche il potere politico debba prendere ordini dal papato in quel preciso momento il papa rimette in discussione l'idea che l'imperatore sia stato messo lì da Dio e quando dico rimette in discussione è un eufemismo nel pieno della lotta per le investiture undicesimo secolo papa Gregorio VII a un certo punto scrive a un vescovo tedesco per spiegargli come mai è ovvio che deve comandare il papa e non l'imperatore e gli dice ma chi sono questi imperatori questi re questi principi anzi no non mette neanche il punto interrogativo lui lo sa chi sono tutti sanno che gli imperatori i re i principi sono quelli che hanno rubato più degli altri che con la violenza col furto con l'inganno con la rapina spinti dal diavolo si sono impadroniti del potere e hanno preteso di sottomettere gli altri uomini che sono i loro pari in altre parole in un mondo abituato a sentirsi dire l'imperatore è stato messo lì da dio papa Gregorio VII dice non è vero niente l'imperatore è uno che è spinto dal diavolo lui e suo padre hanno rubato ammazzato e si sono imposti e hanno fatto questa cosa vergognosa di pretendere di comandare al resto dell'umanità questa cosa qui Gregorio VII ovviamente la dice perché gli interessa in quel punto specifico delegittimare il potere dell'imperatore e non è che vuole dar vita a una società anarchica vuole dar vita a una società dove anziché l'imperatore i re i cavalieri armati violenti sanguinari comanda la chiesa sta di fatto però che una volta che la metti in circolo questa cosa una volta che hai detto e da che pulpito il papa l'ha detto che non è vero niente che i sovrani sono stati messi lì da Dio ma che sono quelli che sgomitando si sono impadroniti del potere ed è una brutta cosa questo loro pretendere di comandare una volta che l'hai detto non lo tiri più via questa cosa per tutta la cultura medievale e moderna attraversa l'Europa ed è se vogliamo non è mai un esercizio tanto salutare stare a dire quali sono le caratteristiche della civiltà europea rispetto che ne so a quella cinese sono cose rischiose però qui mi sentirei di correre il rischio e di dire che nella civiltà europea corre una linea di dissacrazione del potere di non fiducia nel potere di rifiuto dell'idea che il potere è sacro ecco che forse nella civiltà europea è più forte e più precoce che non in altre civiltà forse certamente c'è allora si crea una contraddizione dall'undicesimo secolo in poi per secoli e secoli i re continueranno a raccontare ai loro sudditi che loro regnano per grazia di Dio per diritto divino ma non sarà più ben chiaro se la gente ci crede tant'è vero che già nel medioevo c'è tutto un dibattito che emerge per esempio nelle opere letterarie sul tema ma esattamente perché ci sono i re perché viviamo in questo sistema in cui ci sono questi qua che vanno a cavallo comandano stanno nei palazzi sono armati e noi dobbiamo ubbidire allora la teoria estrema di Gregorio VII e cioè ci sono i re perché sono dei delinquenti che ci hanno oppressi con la forza non emerge più granché bisognerà aspettare altri secoli però nel medioevo emerge invece l'idea intermedia che se ci sono questi re e noi accettiamo di ubbidirgli deve essere perché a un certo punto ci si è messi d'accordo questa è una cosa che viene fuori in molte opere letterarie medievali anche famosissime dei veri best seller dell'epoca come il romano della rosa in cui a un certo punto proprio si dice se vivessimo ancora nell'età dell'oro non ci sarebbe nessun bisogno del re nell'età dell'oro che è un vecchio mito antico ma che il medioevo riprende gli uomini erano davvero tutti uguali pacifici la proprietà era in comune ecco c'era il comunismo e nel medioevo era visto come un'epoca meravigliosa però purtroppo tramontata perché gli esseri umani non sono stati all'altezza gli esseri umani a un certo punto hanno cominciato a dire questo è mio il primo che ha piantato uno steccato intorno a casa sua la seconda cosa che ha fatto è stata di prendere un bastone per difenderlo quello steccato gli uomini hanno cominciato a dire questo è mio a litigare ad ammazzarsi fra loro e a un certo punto si è capito che non si poteva andare avanti così ci vuole uno che comanda a questo punto il romano della rosa racconta in modo molto grafico siamo nel 1200 sono andati a cercare qualcuno che potesse comandare hanno preso il villano più grande e grosso che hanno trovato il più forzuto di tutti gli hanno messo un bastone in mano e gli hanno detto fai tu il re noi d'ora in poi ti ubbidiamo allora voi capite è una legittimazione per carità è una legittimazione se c'è il re ci sono i suoi motivi è una legittimazione però molto diversa dal dire l'ha messo lì Dio non l'ha messo lì Dio neanche un po' l'abbiamo messo lì noi e per carità nessuno dice dobbiamo ripensarci è stato fatto tanto tempo fa ormai l'umanità è andata così ci sono i re e va bene così ma ci sono perché un giorno i liberi componenti della società umana hanno deciso di delegare il potere a un re ne consegue che il re deve fare il bene pubblico e lì si entra su un terreno delicato perché chi giudica se il re governa davvero con giustizia e fa davvero il bene pubblico è capite che dalla risposta chi giudica dipendono tante cose e siccome nel medioevo in realtà ragionano sui problemi anche loro con non meno libertà dei greci a un bel momento San Tommaso d'Aquino che sta cercando di costruire una visione razionale compatta del mondo che spieghi a tutti come il mondo è quello che credono nel 200 è ordinato razionale voluto da Dio e Dio ci ha dato la ragione per capirlo e farlo funzionare bene e Tommaso d'Aquino a un certo punto è costretto a porre il problema ma il re il re che non fa il bene del popolo bisogna obbedirgli no dice Tommaso d'Aquino non è che si addentri a decidere chi deve giudicare però in linea di principio il re che non fa che non governa con giustizia non è un re è un tiranno e a quel punto siccome a loro piace andare a fondo ai problemi Tommaso d'Aquino prosegue e contro il tiranno il popolo ha il diritto di ribellarsi anche qui capite che io non credo che abbia deciso in 448 cosa scrivere in quel trattato però alla fine dice no mi dispiace certo siamo logici contro il tiranno il popolo ha il diritto di ribellarsi e se il popolo non si ribella ma io ho capito che è un tiranno e congiuro per ucciderlo sì contro il tiranno si ha il diritto di congiurare e ucciderlo poi ben inteso chi è il tiranno chi lo decide è la parte più difficile però voi capite che siamo molto lontani ormai dal discorso il re l'ha messo lì da Dio e se la vede lui con Dio e tu non puoi far niente puoi fare come e infatti infatti la storia non ancora della democrazia perché continua a non esserci la democrazia ovviamente ma la storia delle monarchie europee tra la fine del medioevo e l'età moderna è la storia di re che continuano a dire al loro popolo mi ha messo qua Dio e che però al tempo stesso sentono sempre il bisogno di legittimare le decisioni che prendono un re della fine del medioevo e dell'età moderna quando deve prendere decisioni importanti e specialmente quando deve alzare le tasse che è la decisione più importante di tutte convoca delle assemblee lo chiamano parlamento in Inghilterra li chiamano stati generali in Francia il re convoca un'assemblea fa venire i nobili fa venire il clero fa venire i borghesi delle città e con loro discuta e spiega e lui da un lato dice mi ha messo qui Dio ma dall'altro riconosce nella pratica che le decisioni vanno condivise e la storia dell'età politica dell'età moderna se volessimo riassumerla scherzando in un'unica linea la storia della politica europea dell'età moderna è questa come i re a un certo punto si sono sentiti così forti visto che era Dio che li aveva messi lì dal provare a governare e aumentare le tasse senza più radunare delle assemblee e chiedere consiglio al popolo e come i re ci sono un po' riusciti hanno avuto l'illusione di riuscirci tanto che ci sono stati dei re come il re sole che hanno davvero governato senza più radunare assemblee i tre stati gli stati generali ma decidendo loro tanto da poter dire lo stato sono io e non c'è nessun altro che ha diritto di parola ma il vero finale della storia è che prima in un paese e poi in un altro i re che hanno spinto troppo in quella direzione il popolo li ha presi e gli ha tagliato la testa è successo prima in Inghilterra ed è successo perché un re di Inghilterra all'inizio del 600 si è detto Dio mi ha messo qua sul trono e io devo rispondere a un parlamento nobili lord passi ancora arcivescovi e pazienza ma ci sono pure i borghesi delle città i deputati delle contee e io non posso aumentare le tasse al mio regno perché il parlamento si rifiuta di accettare ma a me mi ha messo Dio sul trono il parlamento sono quattro pezzenti io lo sciolgo il parlamento sapete tutti come va a finire il parlamento rifiuta di sciogliersi convoca un esercito fa la guerra al re lo sconfigge lo cattura e lo processa per alto tradimento cioè per aver tradito il suo mandato verso il popolo e gli taglia la testa in Francia arriveranno dopo ma anche in Francia sapete tutti che arrivano qual è la prima tappa della rivoluzione francese la convocazione degli stati generali in altre parole ci hanno provato per un bel po' a governare senza ascoltare nessuno e poi si sono trovati in braghi di tela e hanno dovuto riconvocare un'assemblea che rappresentasse il paese dopodiché l'assemblea ha messo sotto processo il re per alto tradimento e gli ha tagliato la testa allora cosa nasce con le rivoluzioni nasce la democrazia forse neanche per idea e ne ho dimenticata una di rivoluzione in cui la testa al re l'hanno tagliata solo simbolicamente la rivoluzione americana lì non gli hanno potuto mettere le mani addosso perché stava a Londra ma hanno buttato giù le statue e hanno fatto anche loro la loro rivoluzione e la loro repubblica allora questi stati che escono dalle rivoluzioni la monarchia costituzionale inglese la repubblica degli stati uniti la repubblica francese sono democrazie no che non sono democrazie perché anche lì tutti questi le persone colte all'epoca sanno tutto di Platone Aristotele i greci tutto hanno presente i concetti li hanno perché mai democrazia noi i migliori governiamo la differenza rispetto ai greci è che loro adesso ci credono cioè ci credono davvero al fatto che quando sono in pochi a governare in pochi l'elite quelli che pagano le tasse l'elite può essere più ampia più ristretta ma comunque non certo tutto il popolo non i miserabili gli analfabeti gli operai no eh ci mancherebbe i gentiluomini dirigono la repubblica è così negli Stati Uniti come è così nella monarchia inglese eccetera allora sono oligarchie di fatto ma i greci avrebbero avuto il coraggio di dire è l'oligarchia perché i ricchi comandano e opprimono il popolo è normale che sia così se comandasse il popolo opprimerebbe i ricchi mentre invece nel settecento e nell'ottocento da noi negli Stati Uniti in Inghilterra in Francia alle spalle hanno tutti quei secoli medievali in cui si è detto no ma è un contratto è un contratto nell'interesse di tutti il potere è stato deciso dal popolo stesso che lo ha delegato per mantenere l'ordine e quindi le elite che governano queste repubbliche e queste monarchie costituzionali sono convinte che è nell'interesse di tutti anche del popolo che loro governano dopodiché guai se governasse il popolo direttamente questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare perché rischiamo di credere che non so che gli Stati Uniti d'America siano stati fondati con l'idea di fare una democrazia vi leggo una citazione di uno dei padri fondatori secondo presidente degli Stati Uniti John Adams la democrazia finché dura è più sanguinaria dell'aristocrazia o della monarchia ricordatevi la democrazia non dura mai a lungo si corrompe si esaurisce e si suicida non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata John Adams secondo presidente degli Stati Uniti chiaramente non riteneva di essere presidente di una democrazia era presidente di una repubblica governata dai migliori dai proprietari di schiavi dai grandi commercianti di New York dai piantatori della Virginia e così via anche negli Stati Uniti nel 1800 come nell'Italia della controriforma la democrazia è ira e furore e c'è qualcosa di meglio governano i migliori per consenso comune nell'interesse di tutti dunque riassumendo ci sono due modi possibili di vedere la cosa la democrazia è quando la maggioranza si rifiuta di farsi calpestare da pochi e prende il potere e se necessario calpesta i pochi oppure lo scopo di un sistema di governo è di fare l'interesse di tutti certo ci possono essere dei contrasti ma bisogna conciliarli chi comanda deve governare nell'interesse di tutti si fa un contratto ben inteso questa idea di contratto sembra una visione meno sanguinaria della faccenda ma anch'essa può essere spietata nel corso dell'ottocento gli Stati Uniti cominciano a somigliare di più a una democrazia nel senso che c'è più gente che vota sempre di più e quindi le elite hanno sempre meno controllo su quello che succede a un certo punto nell'ottocento gli Stati Uniti hanno la loro grande guerra civile e una figura come il Presidente Lincoln avviamoci a chiudere che è passato alla storia come uno dei grandi campioni della democrazia il Presidente Lincoln durante la guerra civile sul campo di battaglia di Gettysburg tiene un famosissimo discorso in cui dice che loro si battono affinché questa nazione sotto Dio possa avere una rinascita nella libertà e che il governo del popolo fatto dal popolo per il popolo non scompaia da questa terra sono parole che ogni bambino negli Stati Uniti impara già alle scuole elementari il discorso di Gettysburg il governo del popolo fatto dal popolo per il popolo ben inteso questo governo però stava facendo la guerra a una parte dei suoi cittadini gli abitanti degli Stati del Sud i quali avevano deciso di staccarsi dagli Stati Uniti e a Washington il Presidente che sentiva di incarnare il governo del popolo aveva dovuto decidere cosa fare e aveva deciso la seguente cosa questi se ne vogliono andare perché sono stato eletto io e non sono d'accordo con la mia politica quindi hanno dichiarato la secessione ma in una democrazia una volta che si è votato chi è rimasto in minoranza deve accettare il risultato delle elezioni se chi è rimasto in minoranza dice io non sono d'accordo me ne vado la democrazia è morta è vero e chi lo sa è la posizione di Lincoln la posizione dei suddisti era la democrazia che abbiamo diritto di andarcene se vogliamo e Lincoln è un tiranno dopodiché questo è un problema cruciale per definire e chiudiamo davvero cos'è la democrazia oggi la democrazia oggi è un sistema in cui quando c'è da decidere la riforma dell'università noi andiamo tutti in piazza a alzare la mano e si conta neanche per idea noi chiamiamo democrazia una roba che gli atteniesi non avrebbero francamente saputo come definire ma che certamente non avrebbero riconosciuto però noi votiamo però oggi ci si chiede quanto conta il nostro voto noi diciamo viviamo in democrazia perché è chiaro se vivessimo in una dittatura io avrei paura a star qua a dire certe cose e magari ci sarebbe la polizia fuori che mi aspetta se vivi in una dittatura hai paura che arrivino al mattino a bussare a casa tua e ti portino via non puoi scrivere quel che vuoi sui giornali non puoi scendere in piazza a manifestare noi viviamo in democrazia e tutte queste cose le possiamo fare in altre parole noi chiamiamo democrazia la libertà e non è detto che sia esattamente la stessa cosa democrazia tecnicamente vorrebbe dire uno sente che sta decidendo e a scommessa del mostro non arrivo fino al futuro perché tocca a te il futuro ma del nostro presente è quanto noi sentiamo che stiamo decidendo certamente non mi fermo su di noi sull'Italia sull'Europa mi fermo sugli Stati Uniti dove la discussione su questo è straordinariamente intensa il presidente Obama un po' di tempo fa ha detto la democrazia crolla l'ex presidente Obama ovviamente la democrazia crolla quando la persona media sente che la sua voce non conta che il sistema è sbilanciato a favore dei ricchi e dei potenti o di interessi privati sempre parlando dell'America una grande scrittrice indiana Arondati Roy ha detto la democrazia oggi non significa più quel che dovrebbe è stata mandata in officina e sottoposta a revisione ognuna delle sue istituzioni è stata svuotata e c'è stata restituita come un veicolo per il libero mercato uno strumento a disposizione delle multinazionali fatto dalle multinazionali per le multinazionali qui un orecchio americano riconosce immediatamente la parodia del discorso di Gettysburg fatto dal popolo per il popolo e così via una cosa curiosissima è che molti americani influenti molto vecchi in questi anni stanno dicendo questa roba che abbiamo non è più la democrazia li colpisce che siano molto vecchi perché evidentemente hanno la sensazione che questa svolta si è accentuata di recente uno è l'ex presidente Jimmy Carter che adesso ha 93 anni e che ha detto apertamente noi oggi siamo diventati un'oligarchia invece di una democrazia aggiungiamo l'economista Thomas Piketty il quale nel suo grande libro Il capitale del ventunesimo secolo ha dimostrato dati alla mano che oggi se uno vuole avere soldi il modo più sicuro ed efficace è di ereditarli la ricchezza ereditata è molto più pesante è molto più importante della ricchezza nuova che viene creata da chi viene su dal basso tutte queste cose rischiano di svuotare secondo molti la democrazia fermo restando che in ogni caso appunto quella che noi chiamiamo democrazia è una cosa diversa da ciò che altre società hanno chiamato così e forse appunto un po' di riflessione anche proprio sulla terminologia che usiamo male non sarebbe e non farebbe per capire un po' meglio in che mondo viviamo ecco amen grazie grazie Alessandro Barbero che da bravo professore di storia medievale è partito è partito da lontano ma è arrivato davvero fino ai problemi cruciali che abbiamo potuto leggere attraverso la lente americana ma che ci ritroviamo anche nel nostro paese e che ci ritroviamo nel mondo perché una delle certezze di questi ultimi 20-30 anni è che le ricchezze si sono concentrate sempre in meno mani e che benché il prodotto interno lordo interno poi non so cosa voglia dire in questo caso il prodotto lordo del pianeta perché più che interno non può essere il prodotto del pianeta è enormemente aumentato potremmo anche da qualcuno esperto come il professor Magri sapere di quanto io credo dall'inizio del novecento alla fine del novecento più di 20 volte globalmente ha valori costanti e però nessuno di noi è diventato 20 volte più ricco cioè questo denaro in qualche maniera è andato in altre direzioni e allora cercheremo di capire come cambia il mondo vedremo i paesaggi del futuro adesso con la guida di Paolo Magri che molti di voi vedono come vedete Alessandro Barbero in televisione molto spesso a offrire la sua chiave di lettura di quello che succede nel pianeta con un occhio particolarmente esperto per quel che riguarda l'Iran l'Iraq il Medio Oriente gli Stati Uniti l'est l'est del pianeta e quindi io adesso invito Paolo Magri che è autore di molti libri io vorrei citarvene qualcuno tra questi vi citerei l'età dell'incertezza che ha avuto un grande successo un titolo che è rimasto come uno slogan nella nostra mente il mondo di Obama edito da Mondadori nel 2016 e poi le nuove crepe della governance mondiale che è pubblicato dall'ISPI l'ISPI è proprio l'istituto che Paolo Magri dirige è un istituto che si occupa di internazionale che si occupa di politica e di politica a livello geopolitico globale tra gli ultimi libri anche vorrei citarvi dunque ecco quello sui BRICS che forse voi avete sentito citare i BRICS sarebbero Brasile, Russia, India e Cina mondi emergenti mondi emergenti che stanno modificando le nostre le nostre prospettive Paolo Magri oltre ad essere direttore dell'istituto di studi di politica internazionale è docente di relazione internazionale all'università Bocconi è segretario del gruppo italiano della Trilateral Commission è membro di molte istituzioni internazionali in particolare della cooperazione internazionale del consiglio di amministrazione della fondazione Italia-Cina eccetera eccetera ma qui l'elenco sarebbe lunghissimo grazie grazie Paolo Magri sono felicissimo che abbiamo scelto di fare iniziare te primo perché ho capito che ho avuto anch'io dei professori di storia medievale ma ho capito che erano professori medievali da come insegni tu non di storia perché non sono mai stato così appassionato da qualcuno che parla di storia come in questa ora e poi perché i concetti che il professor Barbero ha evocato il concetto di democrazia oligarchia l'uomo col bastone l'elite che ha applicato alla politica interna all'evoluzione della politica interna sono gli stessi concetti che applicherò io guardando al dialogo fra stati facendo con voi questa passeggiata sul futuro perché sono le stesse dinamiche quale stato comanda di più se un gruppo di stati deve avere il governo oligarchico del mondo se invece dobbiamo essere tutti liberi con il modello assembleare che ci raccontava Barbero prima e poi molto utile devo dire perché non era sicuramente il tuo intento ma fra un po' andremo a votare e mentre tu parlavi di questi modelli l'oligarca ricco o il tecnocrate che dice io so devo governarvi o chi invece dice sono le assemblee che votano io mi vedevo delle clip che uscivano e c'erano dei volti Mario Monti Casaleggio Berlusconi quindi ci hai portato hai parlato di passato ma ci hai portato all'oggi come ci hai portato all'oggi quando hai evocato per chi legge oggi Trump come il populista Trump nel suo discorso di insediamento ha detto le cose che tu ci hai letto del secondo presidente degli Stati Uniti quando è andato davanti alla Casa Bianca e ha detto oggi voi che siete il popolo siete il potere degli Stati Uniti oggi non conta più la gente qui dietro gli oligari che sono oltretutto i suoi ministri erano stava dicendo non conta la gente che c'è qui dietro da oggi qui contate voi io sarò il presidente tramite investitura da voi io sarò il presidente che interpreta il popolo peccato poi che abbia fatto un governo che ha il più alto numero di miliardari nella storia degli Stati Uniti e come questi oligarchi e milionari tornando ad esempio possano loro interpretare il popolo e il contadino del sud oppure il minatore che ha perso il lavoro nella zona delle miniere è tutto da vedere io però non mi occuperò di lezioni politiche italiane non mi occuperò mi occuperò un po' di passato cercherò nel breve tempo che abbiamo insieme di fare quattro passi con voi nei paesaggi del futuro che è sempre un'operazione molto rischiosa perché del doman ce lo ricordava Lorenzo il Magnifico del doman non be' certezza e fare previsioni sul futuro è sempre una cosa molto è come fare i confronti fra le culture molto pericoloso e molto delicato perché è sempre delicato fare previsioni in qualunque tema ma sul futuro della politica internazionale è complicatissimo cioè si dicono delle grandi stupidate è complicatissimo in primo luogo perché dipende quello che succede nel mondo da come cambia l'economia le dinamiche economiche e noi non lo sappiamo voi pensate che quando io avevo più o meno quanti anni avete voi dai qualche liceo un po' università giusto cioè quando avevo più o meno la vostra età voi sapete qual era la grande paura in termini di competizione per noi per l'Europa per gli Stati Uniti di chi avevamo paura oggi di chi abbiamo paura economicamente la Cina cioè quando uno pensa a chi ci scavalcherà oh c'è già scavalcato la Cina quando io avevo la vostra età voi sapete di chi avevamo paura? Chieto? ma lei quando io avevo la mia età ce l'aveva anche lei la mia età quando io avevo la loro età no il Giappone cioè voi pensate che negli anni 80 noi eravamo ossessionati dal fatto che il Giappone potesse conquistarci tutti il Giappone che poi è stato per 20 anni in recessione cioè c'è ancora quasi che ha una popolazione vecchissima cioè era pensate come cambia il mondo quella era la grande paura di quegli anni e poi fare previsioni sul futuro vuol dire fare previsioni sulla politica anche dei singoli paesi perché i leader hanno un loro peso voi pensate a chi aveva previsto che Trump diventava Presidente degli Stati Uniti eravano tutti io ero in televisione quella sera eravano già lì a commentare Hillary Clinton e poi sono arrivati due o tre stati dove non ce l'aspettavamo e dalle 12 e mezza in poi è cambiato chi aveva previsto la Brexit e stiamo parlando di democrazie ma anche nei regimi i regimi sono per definizione più stabili giusto? e tu un regime sai che prima o poi finirà e come noi sappiamo che prima o poi moriremo ma non sai il vero punto per noi e per i regimi è sapere quando finisce noi finiamo o il regime finisce è quello che non sappiamo chi aveva previsto la caduta dell'Unione Sovietica plum implosione di Gheddafi la caduta di Ben Ali la caduta di Mubarak nessuno perché non abbiamo questa arte di prevedere in modo preciso oppure prevedere il futuro vuol dire anche prevedere l'evoluzione di uno degli strumenti della politica internazionale che è la guerra le armi ma chi si sognava vent'anni fa che ci poteva essere il drone quello che ha fatto abbattere l'aereo israeliano nell'altro giorno un drone siriano è entrato in Israele Israele ha mandato degli aerei per reciprocare e un aereo è stato abbattuto un dronino quelli che voi usate probabilmente per giocare o per spiare la vicina quando fa la doccia o il vicino o tutti e due ma oppure gli attacchi cyber gli attacchi cyber cioè che sono una componente delicatissima adesso sia nell'ambito finanziario economico cioè chi poteva prevedere vent'anni fa che ci potesse essere un nemico che non sappiamo dove è non sappiamo che obiettivo ha cioè noi possiamo avere tutte le armi del mondo armi che funzionano con meccanismi molto sofisticati c'è un ragazzo della vostra età un po' smanettone in una parte del mondo che penetra negli archivi della NASA e che riesce a sbalarmi tutto queste cose non le sapevamo quindi fare previsioni sul futuro come ci ricordava saggiamente Lorenzo il Magnifico è molto pericoloso quindi noi possiamo solo cercare di capire quali sono i trend quali sono le grandi tendenze di fondo che sono magari e qui il passato e il futuro e il futuro è presente ovviamente sono collegati che sono magari già iniziate da dieci anni quindici anni vent'anni che ci fanno più o meno capire che cosa sta succedendo di grande in termini di cambiamento del mondo e parlare di questi solchi questi solchi iniziati nel tempo che stanno trascinandoci vuol dire oggi parlare soprattutto di alcune grandi erosioni erosioni di che cosa e qui comincio a rubare quello che è stato detto prima erosioni di un mondo che negli ultimi due o tre secoli era governato plasmato creato a immagine e somiglianza diretto da un'oligarchia non da una democrazia anzi come nel caso degli stati molti degli attori di questo mondo non erano neanche cittadini erano schiavi formalmente erano colonie quindi non esistevano nel grande gioco degli stati fino a poco tempo fa ma la vera oligarchia era che ha governato il mondo negli ultimi secoli dalla rivoluzione industriale mettiamo fatta un mondo bianco e cristiano un mondo che prima se lo giocava alle singole potenze europee poi da un certo punto un mondo che è stato anche americano poi americano europeo poi magari solo americano ma fatto così e quel mondo così che abbiamo conosciuto che ha retto il nostro pianeta perlomeno in tempi recenti non prima sta subendo delle grandi erosioni quali sono le prime erosioni la prima erosione è quella della demografia non la democrazia ma la demografia che a differenza della democrazia è una delle poche scienze esatte nel senso che noi possiamo oggi mentre siamo qua a parlare avere un'idea abbastanza chiara vera in economia no in politica no di quanta gente e che gente ci sarà nel mondo fra vent'anni conosciamo i tassi di mortalità i tassi di natalità e possiamo avere un'indicazione chiara ecco questo mondo già in questo mondo stiamo subendo una prima erosione rispetto a questa oligarchia del passato in realtà diciamo che il mondo bianco e cristiano bianco per intenderci non è mai stato anche molti anni fa la maggioranza dei cittadini del mondo erano asiatici ma c'era una parte quella che dicevo prima Europa Stati Uniti che aveva seppur minoranza un suo peso anche demografico vediamo questa prima slide 1950 qui è storia 2050 è previsione abbastanza scientifica guardate il peso di Europa e Nord America questo mondo dell'oligarchia che reggeva il mondo 29% guardate nel 2050 come cambia Nord America è andato in costa piccolino 7 più 4 11 cioè da 22 a 11% eravamo già una minoranza ma guardate cos'è che colpisce come grande crescita in questi passaggi di 100 anni l'Africa che passa dal 9% al 25% l'Africa che passa dal 9% al 25% vuol dire che fra 20 anni pensate al dibattito sulle migrazioni in corso in vario modo l'Africa fra 20 anni avrà un paese solo la Nigeria che da sola sarà grande come tutta l'Europa uno dei 50 paesi africani che da solo è grande come l'intera Europa quindi con città da 30 milioni di abitanti cioè città che saranno più grandi della media dei paesi europei e pensate rispetto a questo poi non entro in questo tema che sembra quasi elettorale quanto possa aiutare risolvere l'idea dell'accordo con la Turchia o l'accordo con i trafficanti della Libia cioè se si muovono e si muoveranno dall'Africa una piccola parte dei soli abitanti della Nigeria altro che 140 mila migranti sulle nostre coste dovremo accogliere questo è un problema che sul futuro avrà un suo peso qual è la seconda grande erosione perché qualcuno potrebbe dire sì ma nella politica internazionale non è che i paesi contano e pesano e hanno un ruolo in base a quanto popolazione hanno hanno un peso o un ruolo in base a altri parametri quanto più sono ricchi tanto più sono potenti o tanto più hanno armamenti tanto più sono potenti e da questo punto di vista voi direte quell'11% dell'Europa e Stati Uniti di quell'oligarchia che ha governato il mondo se è sempre come è ora molto più ricco molto più economicamente potente sarà lui che continuerà a gestire il gioco ma anche qui qualcosa sta cambiando tutti abbiamo in mente la Cina ovviamente ma sta cambiando in modo molto più consolidato che non solo la crescita della Cina guardate questa slide 1990 non secoli fa le economie avanzate più o meno una buona approssimazione proprio quelle elite bianco cristiana di Europa Stati Uniti producevano l'80% della ricchezza del mondo tutto il resto del mondo i pari agli stati ex coloni eccetera il 20% 2020 questa situazione è totalmente diversa siamo al pareggio cioè il resto del mondo produce la metà della ricchezza esattamente come noi qualcuno dirà ma ciò che conta sono gli armamenti qualcuno di voi che studia relazione internazionale ha studiato il realismo come dottrina di relazione internazionale che dice conta nel gioco degli stati chi è il più grosso quello qui do il bastone come diceva prima Barbero quello più grosso e più potente e chi è il più grosso e più potente militarmente nel mondo San Marino no chi è Stati Uniti e quanto ci raccontiamo questa storia che ma gli Stati Uniti da soli hanno le armi di tutto il resto del mondo mezzo mondo un quarto del mondo eccetera certo vero ma anche qui vediamo queste tracce che vanno nel lungo periodo come stanno cambiando nel 2003 qui eravate già belli che è nato anche voi nel 2003 gli Stati Uniti da soli avevano la quantità di armamenti pari ai successivi venti stati oggi l'anno scorso un anno e mezzo fa gli Stati Uniti hanno da soli gli stessi armamenti dei successivi otto stati che vogliono dire Gran Bretagna Cina Russia eccetera eccetera nel 2030 qui le previsioni entrano un po' nella soggettività nell'alea perché dipende se tutti gli Stati hanno soldi a sufficienza per mantenere gli stessi tassi di crescita per esempio Trump è diventato presidente ha interrotto i tagli alla spesa militare anzi ha messo 90 miliardi all'anno sulla spesa militare quindi questo può cambiare ma a tassi consolidati nel 2030 la Cina avrebbe la stessa forza militare degli Stati Uniti e qui cominciate a vedere che da tre parametri su quattro la demografia la parte economica e la parte di armamenti qualcosa sta cambiando in questo mondo di un'oligarchia che lo ha retto in questi anni e anche se guardate le testate nucleari certo Stati Uniti Francia e Gran Bretagna insieme hanno più testate della Russia 200 circa in più ma guardate quei nuovi pallini che appaiono che fanno parte del benvenuti al sud benvenuti a sud est che è questo il grande cambiamento che voglio sottolinearvi dello spostamento del baricentro da un nord ovest questo bianco cristiano a un mondo che è sud est e qui il sud est lo vedete tutto sono pallini piccoli ma voi sapete che le armi nucleari non te ne servono tantissime non è che su Hiroshima ne ha scaricate 7000 gli americani chiaro? te ne servono uno o due anzi potenzialmente quando ne è sparata una qualcuno ti risponde quindi abbiamo la Cina la Nord Corea l'India l'Israele il Pakistan chi sa l'Iran se saltasse l'accordo qualcuno di voi che dopo Barbero dopo questa mia parte fosse ancora sveglio mi direbbe sì è vero che i paesi del sud est stanno avendo più popolazione stanno avendo più ricchezza stanno avendo più armi ma c'è altro che conta nei giochi di potere fra gli stati potrebbe dirmi se lei si ricorda durante la guerra fredda avevamo due una contrapposizione fra due potenze America e Unione Sovietica che erano pari militarmente molto diverse economicamente perché la Russia l'Unione Sovietica buttava quasi tutti i soldi negli armamenti e la gente moriva di fame negli Stati Uniti c'era un'economia molto solida ma nella competizione una delle due gli Stati Uniti vincevano vinceva a livello mondiale non perché aveva più armi o perché stava meglio ma perché c'era un'altra cosa che la rendeva affascinante avvincente quello che viene chiamato il soft power che non è il potere delle armi non è il potere dei soldi nel portafoglio è il potere di proiettare sull'esterno attraverso la cultura la musica i film i presidenti bellocci con le mogli belle rispetto a questi leader del partito comunista russo che voi non ricordate ma noi ricordiamo li vedevamo il primo maggio nella piazza rossa sempre gli stessi per anni a volte erano già morti da tempo ma faceva sempre freddo Mosca erano lì immobili quattro ore a vedere e non è che tu li vedevi dicevi io voglio diventare così vedevi invece presidente Bob Kennedy John Kennedy Jean-Clean Kennedy Clinton la scrivania e ti venivano altre altre emozioni che non quelle che ti davano questi essere imbalsamati e questo è il soft power e uno degli strumenti fondamentali della soft power una delle componenti è lo sapete le olimpiadi in questi giorni è lo sport vincere le medaglie nello sport per dimostrare che sei potente che sei importante ma cosa c'è di ancora più simbolico per mostrare la tua potenza e il fatto che sei una potenza del mondo che tu sia una democrazia o un regime è ospitare i grandi appuntamenti sportivi giusto? cioè il nazismo il fascismo la Cina cioè tutti cercano quando arrivano al potere di ospitare quali sono i grandi appuntamenti che contano che mostrano potenza le olimpiadi e campionati di calcio i principali l'expo di cui noi ci siamo riempiti la bocca per alcuni anni è in questo ranking come la democrazia nel ranking citato all'inizio al dodicesimo posto però per tutti questi perché sono simbolo di potenza perché tu per conquistare avere ospitare io che riesco di cadere qua c'è questa luce che per ospitare uno di questi appuntamenti devi vincere una competizione oggi devi avere 100 voti 100 paesi del mondo che votano per dire le olimpiadi andranno a Roma e non a Pechino giusto? e lì devi essere piacere devi essere potente devi pagare molte volte e poi devi essere potente perché se poi lo vinci questo appuntamento devi realizzarlo dillo a noi italiani che abbiamo vinto l'expo quando è scoppiata la crisi finanziaria per cui ci siamo inventati l'expo light noi faremo una cosa non c'era una lira faremo una cosa diversa non faremo i grandi padiglioni faremo dei grandi orti vi ricordate all'inizio si dice non c'era una lira 2008-2009 quindi l'Italia dice noi saremo diversi l'expo è sempre una sburfonata di grandi padiglioni architetti noi faremo un orto di riso come Vercelli un orto di banani queste cose qua perché servono soldi ecco guardate dove sono andati e dove andranno i principali appuntamenti sportivi del mondo campionato di calcio 2010 Sudafrica BRIC Sud molto Sud 2014 e sono sballate le cose ma 2014 Brasile Sud 2018 Russia Est 2022 Qatar sfidere lo faccio lezioni ogni tanto con i miei studenti chiedere così a bruciapelo con chi confina il Qatar dov'è il Qatar esattamente cioè ecco mi chiedono un italiano dov'è la Basilicata ecco dimmi cosa con chi confina la Basilicata lo dico la Basilicata perché sono grandi uguali tra l'altro c'è qualche differenza sulla ricchezza ecco il Qatar ma 48 gradi d'inverno all'ombra per giocare i campionati nel mondo di calcio hanno potuto non dovuto dovuto per forza potuto con la forza il potere obbligare le leghe calcio quali sono le leghe calcio più importanti quella russa nel mondo quella russa quali l'europea e poi al secondo posto quali latinoamerica per fare i campionati i campionati del mondo quando sono di solito il calcio giugno luglio perché perché giugno luglio perché c'è l'aria più fresca non ci sono le zanzare perché giugno luglio perché i campionati del mondo nel continente più importante per il calcio l'Europa sono in vacanza sono finiti i campionati nazionali e si va a fare i campionati mondiali quando saranno i campionati del mondo in Qatar a gennaio perché il Qatar perché se no non si può giocare a 7000 gradi al sole all'ombra perché il Qatar è così potente non solo di aver vinto i campionati pagando non solo di poter fare adesso vedremo con l'embargo fare grandi stadi eccetera ma anche di poter spostare il campionato del mondo obbligando la vostra squadra del cuore a fare un mese e mezzo di vacanza perché ammesso che ci si vada perché bisogna essere potenti anche per vincere la stessa cosa sugli olimpiadi dove c'è un'eccezione Tokyo nel 2022 ma per un motivo molto semplice sapete qual è il motivo molto semplice chi se lo ricorda dove si è votato per decidere le olimpiadi del 2022 scusate quando si è votato si è votato nel momento in cui c'erano le proteste in Turchia per Jay-Z Park ve le ricordate Park piazza di Istanbul il governo il regime è chiamato come volete vuole costruire buttare giù il parco e fare un grande supermercato i giovani utilizzano questo per protestare contro il governo la polizia reagisce e manganella e nei giorni in cui si votava il candidato era Tokyo o Istanbul i giurati mentre erano lì che votavano e ricevevano i soldi delle bustarelle dei vari paesi vedevano le immagini della polizia che manganellava e dicevano io lì forse le olimpiadi non le porto ma se no lì avremmo avuto molto probabilmente Istanbul cioè sempre questo sud-est del mondo e queste erosioni questi solchi hanno impatto che abbiamo visto da un mondo oligarchico di nord-ovest a un benvenuti a sud-est che stiamo vedendo in vari ambienti questi solchi che non sono di oggi hanno impatto su vari aspetti vari ambiti il declino dei singoli stati il declino all'interno degli stati uno stato che si impoverisce e il suo ceto medio sparisce pensate alla Grecia pensate a quello che era successo altrove in precedenza su traffici le rotte commerciali posso essere mi concedete in questa sala così basta guardare anche cose le rotte delle prostitute cioè che seguono la potenza dei paesi cioè nel 1930 le prostitute partivano da Parigi sulle navi e andavano a Buenos Aires a Montevideo che erano due paesi ricchissimi in quel momento una delle principali economie del mondo grazie al fatto che producevano per Europa in guerra carne lana eccetera oggi i traffici non vanno a Buenos Aires vanno dall'Asia o dalla Russia verso il Golfo cioè i nuovi ricchi di questo mondo dove vanno ho usato le prostitute ma i grandi architetti andavano dall'Europa a costruire in America Latina adesso i grandi architetti vanno a costruire nel Golfo in Cina a Pechino guardate anche questi grandi traffici e movimenti come sono significativi e tutto ciò dicevo ha impatto queste erosioni su vari aspetti ma hanno anche impatto su quella che chiamiamo il governo del mondo prima si parlava di governo degli stati ma c'è anche un governo del mondo cioè come il mondo trova ordine un mondo che è tendenzialmente disordinato trova ordine al suo interno e come funziona noi se guardiamo come il mondo si è organizzato non gli stati democrazia oligarchia dittatura monarchia se guardiamo il mondo nel suo insieme come si è dato ordine o ha cercato di darsi ordine vediamo mi riferisco al post seconda guerra mondiale vediamo tre fasi una prima fase lunga e due fasi più corte la seconda è quella in cui viviamo ora la prima fase lunga è quella di un mondo bipolare 50 anni voi immaginate per dare un'idea del mondo un mondo bipolare cioè Unione Sovietica e Stati Uniti immaginate il mondo come un gruppo di musicisti ogni stato è un musicista questo gruppo di musicisti che sono gli stati voi più o meno siete il numero degli stati del mondo e siete dei musicisti se il musicista è libero e fa ciò che vuole ognuno crede che mai per usare Trump mai instruments first anche chi suona il triangolo è convinto che il suo strumento sia il più importante e ci da dentro come faceva il vostro collega in prima fila cioè io sono il triangolo sono convinto che sia lo strumento più importante e dico ma instrument first e suono forte e il violino farà lo stesso e il trombone farà lo stesso e il tamburo farà lo stesso e che musica esce da questo mondo disordinato e anarchico esce una cacofonia un casino incredibile perché ognuno va per la sua strada nel periodo bipolare in passato l'ordine lo mettevano gli imperatori sia con matrice religiosa che meno ma in questi 50 anni del bipolarismo noi è come se avessimo avuto nel mondo due orchestre sinfoniche parallele che non comunicavano fra di loro ma in ciascuna orchestra di questo mondo c'era un direttore d'orchestra uno si chiamava Unione Sovietica l'altro si chiamava America che faceva far melodia e faceva ordine c'era sempre il rischio che i due direttori si bacchettassero fra di loro e si scannassero un conflitto nucleare ma i due direttori non erano cretini sapevano di avere una bacchetta in mano a testa e tutti e due vicini io dottino la bacchettata l'altro gli la dava subito che in modo più pomposo era il balance of power ma c'era ordine non era un ordine gradevole andatelo a dire agli ungheresi quanto era gradevole essere sotto l'ordine dell'Unione Sovietica che se appena protestavi ti arrivavano i carri armati o andati a dirlo a un cileno quanto era gradevole stare sotto l'ordine americano eleggi un presidente della Repubblica a Yende gli americani hanno paura che questo confischi le multinazionali americane fanno un colpo di Stato mettono su Pinochet che comincia a buttare giù i protestanti chi protestava dagli aerei a 4.000 metri di altezza buttati giù vivi ma era un ordine un ordine che non ha creato incidenti ma non ha creato grandi conflitti perché all'interno di ciascun'orchestra il direttore si occupava di dare una randellata in testa a quello del triangolo quando faceva troppo rumore dopo questi 50 anni di questo tipo di ordine uno dei due direttori come può succedere a me oggi inciampa e crolla e si chiama Unione Sovietica la caduta del muro e rimane un solo direttore rimane un solo direttore un re solo che ovviamente non è stupido si circonda come il re si circonda convocava gli stati generali anche lui convoca l'assemblea generale dell'ONU e dà a tutti la sensazione di avere come voi di essere un po' partecipi ovviamente dialoga con l'Europa nel club ristretto va agli incontri del G7 dà una sensazione di minimo collegialità ma è lui che ha in mano la bacchetta è lui che dirige il mondo è lui che dirige il mondo ma e qui veniamo al punto come dicevo orvero prima un re solo deve saperlo fare questo mestiere deve saperlo fare bene e con Bush figlio periodo unipolare che fa le guerre sbagliate porta prove false per la guerra in Iraq spende 7 mila miliardi di soldi dollari 7 mila miliardi di dollari per due guerre che non sono ancora finite l'Iraq è ancora destabilizzato l'Afghanistan è ancora destabilizzato e questo ci dimostra che questo re non è capace di fare quella roba lì non è capace di dirigere poi arriva Obama che è riluttante perché non vuol più fare gli errori del re prima lui magari è capace ma non vuole non vuole non vuole far quello e poi tu puoi essere un re solo a dirigere per tutti se i musicisti ti seguono ma nei musicisti del mondo erano successe quelle trasformazioni di prima la Russia non era più in ginocchio dopo la caduta del muro il petrolio cresceva di prezzo la Russia diventava ricca e nel 91 Yeltsin si inginocchiava davanti al presidente americano nel 99 o nel 2000 Putin non si inginocchiava più davanti al presidente la Cina che era lì con le divisine di quando erano giovani con le ciotoline di riso di 30 anni fa nel frattempo era diventata una potenza economica mondiale e non era lì in ginocchio davanti al direttore d'orchestra a fare quello che diceva e lì e questo ci porta alla fase dell'oggi una fase dell'oggi che dopo essere passati dai due direttori al solo direttore con l'orchestra da camera del G8 arriviamo all'orchestra di oggi il mondo di oggi il mondo che si profila anche per il prossimo futuro per un po' fino a che non si ricompone l'ordine e non vorremmo le ricomposizioni del passato dell'ordine perché sappiamo tutti cosa erano le ricomposizioni è un mondo dove i musicisti vanno per la loro strada e non si capisce chi gestisce il gioco chi dirige l'orchestra chi segue la musica e qui arriviamo alla cacofonia se vogliamo avere un'immagine della cacofonia e del disordine di oggi salto delle cose perché vedo che siamo con tempi eccola qua dei rischi del disordine di oggi cos'è questa immagine qualcuno di Roma qui no questo è un palazzo di Roma è un palazzo di Roma che è crollato beh questo è self evident perché è crollato questo palazzo di Roma è crollato perché la vecchia inquilina dell'ultimo piano di questo palazzo quella che era lì fin dalla costituzione che ha comprato per prima il palazzo ultimo piano la più importante quella che è uno spazio più grande l'America di turno decide di voler avere il più bel terrazzo di Roma ma per lei il più bel terrazzo vuol dire non con le piantine di rose ma con delle sequoie con dei vasi tanti su sul terrazzo e l'amministratore del condominio va dalla signora e dice signora se lei fa così qui crolla tutto e lei dice my country first America first my flat first dice non me ne frega io voglio avere il terrazzo più bello del mondo a me interessa che i miei nipotini buy America hire America a me interessa che i miei nipotini siano bene loro non mi interessa degli altri ok e lì comincia a schicchiolare al terzo piano un altro signore marito e moglie compran l'appartamento si accorgono che il soggiorno è piccolo vogliono ricevere a Roma allora cosa dicono buttiamo giù quel pilastro lì arriva l'amministratore del condominio che è il segretario generale dell'ONU quello che si occupa di tutto il condominio che gli dice signori se lei butta giù il pilastro qui va giù tutto my flat first dicono anche loro quella mette le sequoie quello sotto butta giù il pilastro e crolla tutto crolla quel poco di governance mondiale che abbiamo imparato a fare negli anni che è fatta un po' di potenza qualche paese forte che minazza usare la forza le organizzazioni internazionali che danno un po' legittimità e poi la grande interconnessione economica la globalizzazione che ci fa essere tutti più vicini anche se non tutti vinciamo e questa è un'immagine cupa mi rendo conto di quello che rischiamo noi oggi perché noi abbiamo l'inquilino principale l'America che dice America first e comincia a dire che lui non pagherà più le spese condominiali alla Nato all'accordo sul clima all'UNESCO eccetera abbiamo l'altro grande inquilino di questo mondo l'Europa che si sta divorziando ha perso la moglie la Brexit che se n'è andata e altri rischiavano ora meno di andarsene anche loro ma cosa vuol dire per un condominio sia anziché avere un appartamento che viene frazionato in sette o sette membri in più ognuno con le sue idee poi quelli che hanno litigato sapete è difficile tenerli insieme e poi in questo mondo di questo nostro nuovo mondo sempre più noi abbiamo quelli un po' sfigati che avevano sotto tetto che arrivati l'ultimo hanno comprato in affitto che cominciano a dire no io vorrei un po' allargarmi alcuni l'allargamento lo fanno occupando di notte lo spazio della cantina come la Russia con la Crimea cioè vanno proprio dentro si piazzano lì con le loro cose se lo prendono altri come la Cina questo allargamento lo fanno in modo più soft più elegante la via della seta peaceful rise ma di fatto si stanno allargando anche loro e hai tanti altri che sono in cantina la Turchia l'Arabia Saudita il Qatar l'India che non c'erano non andavano neanche alle assemblee condominiali perché erano prima erano colonie quindi erano affittuari oppure non c'era neanche nell'appartamento che vivevano nella periferia di Roma che sono lì e tutti c'era un'immagine prima per tempo non l'ho fatto crescentemente nazionalistici non abbiamo mai avuto una quantità di potenze medie o grandi con atteggiamenti nazionalistici come lo descriviamo Putin lo zar Erdogan il sultano Al-Sisi il faraone Xi Jinping l'imperatore cioè sono immagini che danno il senso di questa leadership assertiva e forte mentre noi siamo qua a discutere sulla democrazia noi Nord-Ovest loro scusate questo noi loro lo uso a uso semplificatorio questi paesi nuovi affacciatisi belli stati veri tonici sovranisti eccetera noi in Europa nell'Europa dove non siamo ancora un governo federale non siamo più singoli stati come stati di un tempo che abbiamo i governi tecnici i governi di coalizione i governi debolissimi senza governo la Spagna un anno e mezzo il Belgio un anno la Germania in attesa del governo sei mesi l'Italia non è oggetto io mi occupo di politica internazionale e questo è un po' il quadro e se vogliamo un'immagine del disordine di oggi se uno dicesse dai perché sta finendo il mio tempo tra l'altro giusto? no ancora dai un'immagine singola semplice per capire come questo mondo si sta fratturando confondendo rendendosi sempre più disordinato la Siria perché la Siria innanzitutto già guardare e capire prima diceva si diceva che io ogni tanto per il mio mestiere devo andare a dire qualcosa in televisione in radio quando c'è qualcosa sulla Siria io devo ripassare sempre prima ci sono due casi in cui devo ripassare sempre fino all'ultimo momento Trump perché mi preparo qualcosa poi durante la notte ha fatto un tweet in cui ha detto l'opposto e tu cioè la Nato obsoleta no mi ero sbagliato non è più obsoleta la Cina è un manipolatore di valute no mi sta aiutando in Sud Corea vogliamo il dollaro basso a Davos è arrivato il suo ministro del tesoro ha detto noi siamo a favore del dollaro basso guardate non è non è se uno sente dire l'argentina dollarizzata non so ditemi un paese che ha la Turchia dice io da oggi la lira turca la voglio bassa e uno dice sì anche a me piace la carne al sangue cioè non ti cambia la vita chiaro ma il dollaro basso cioè il ministro del tesoro che poi di solito di dollaro non parlano i ministri ma parlano i governatori c'è una distinzione che va a dire ai più importanti imprenditori del mondo a Davos non alla riunione del circolo della bocciofila del lungo tevere a Davos va a dire noi siamo a favore del dollaro basso è una bella notizia per quei signori lì o brutta notizia cioè erano lì con il cellulare e stavano vendendo azioni perché dollaro basso delle loro aziende dollaro basso vuol dire che gli americani ti invadono dei loro prodotti chiaro dollaro basso cioè vendere prodotti americani cioè un tuo prodotto in euro se il dollaro si svaluta anziché costare 100 a un americano che va al supermercato costa 130 allora l'americano comincia a comprare una cosa americana buy America hire America allora questo ministro dice dollaro basso dopo tre ore arriva Trump dollaro forte non la lira turca il dollaro quindi l'altra cosa a cui devo prepararmi è la Siria perché ognuno di quei colori e ognuno di quelle bandierine adesso su Trump rido forse su questo o meno ognuno di quei colori ognuno di queste bandierine vuol dire chi c'è dove che sfere di influenza ci sono in Siria e le bandierine vanno occhio dall'America alla Turchia alla Russia alla a cose che non hanno bandiere come Hezbollah e altri gruppi non militari e i colori sono il pezzetto che controllano i curdi il pezzetto che controllano i turchi che sono contro i curdi il pezzetto che controllano i ribelli il pezzetto che controllano i ribelli che arrivano fino ai salafiti il pezzetto che governa il controllo di Assad il pezzetto che controlla Hezbollah il pezzetto che controlla direttamente l'Iran e stiamo parlando di un paese che non è grande come la Russia e qui se volete anche qui è una semplificazione ma se volete un'idea di come era vent'anni fa che si gestivano queste crisi nel bene o nel male e come è cambiato ora guardate questa slide nel momento unipolare quando c'è un solo conduttore d'orchestra gli altri sono lì alle carse le ferite Russia e in primis ci sono due crisi la crisi in Iraq il primo Iraq non quello di Bush figlio l'Iraq di Bush padre l'Iraq invade il Kuwait e gli americani lo puniscono organizzano sotto leggi da ONU una missione internazionale dove gli americani si portano dietro 33 paesi inclusi molti paesi arabi e danno una legnata in testa a Saddam Hussein non lo uccidono quello avviene dopo il secondo round ma questo è il mondo un direttore d'orchestra qualcuno sgarra si porta dietro tutti e va a randellare in Jugoslavia la stessa cosa seppur con più fatica approfittando del fatto che l'Unione Sovietica ormai Russia era ripiegata l'America va a dare una randellata a Milosevic ai suoi con una coalizione di 12 paesi oggi noi in Siria che è un nightmare abbiamo una situazione in cui non insieme a volte contro stanno operando i turchi i russi i paesi del golfo l'Iran l'Israele gli Stati Uniti più gli attori non statuali Hezbollah o ISIS che sono bande tribù clan disperati e questo e se volete in questa immagine plastica del disordine che ci accompagnerà salvo ricomporsi di un nuovo ordine e speriamo in modo indolore tenete conto di quello che è successo negli ultimi cinque giorni sono caduti tre aerei due aerei un elicottero in Siria uno è un elicottero turco abbattuto dai kurdi i quali kurdi sono alleati degli americani e americani e turchi sono membri della Nato cioè stanno contrapponendosi due colleghi della Nato l'altro è un aereo russo buttato giù dai ribelli di Assad e il terzo è un aereo israeliano abbattuto dall'aeronautica di Assad cioè del governo siriano il cielo sopra la Siria dopo Heathrow è il cielo più affollato del mondo con la differenza che non girano aerei di Heathrow che portano Ryanair che vi porta all'aeroporto di Torino sono aerei militari e il rischio di un incidente come sono successi che abbia poi delle reazioni da parte di chi subisce l'incidente è fortissimo certo adesso gli americani e i russi che sono su due fronti opposti si informano quando Trump è andato a bombardare l'aeroporto di Assad voi lo sapete ha avvisato i russi dico guarda che sto venendo a bombardare Assad i russi hanno tirato sul telefono e hanno detto Assad guarda che arrivano a bombardare Assad ha spostato gli aerei e gli americani sono andati a bombardare un aeroporto vuoto è il primo bombardamento di aeroporto nella storia del mondo in cui neanche un aereo viene distrutto perché li ho avvisati prima è come dire sta arrivando il delivery il delivery preparati in casa che arriva lui semplicemente ha spostato gli aerei questo c'è ancora questo dialogo ma per esempio questo dialogo non c'è con Hezbollah o con Islamic State perché non è che un governo dialoga con realtà non statuali quindi qui questo è l'elemento di rischio e di preoccupazione chiudo giusto chiudo su una su una domanda che ho implicitamente evocato prima come facendo una gufata ma smentendola la gufata è quella sul futuro che ha fatto l'economist alcune settimane fa io ci ho aggiunto il punto di domanda perché è una giornata di sole e non va bene cioè l'economist non ha messo una copertina dicendo ci sarà la prossima guerra ha detto come sarà la prossima guerra che è vi cito un aneddoto personale che mi ha colpito molto e che può colpire anche voi che è la stessa non il quando ma come non il se ma quando e come la prossima guerra recentemente sono stato a una riunione di think tank di centri ricerca in Giordania e ho conosciuto un 35enne saudita che lavoro in una delle fondazioni saudite e un ragazzo ha studiato tutta la vita a Londra vestito come noi non immaginatelo inturbanato e roba del genere una persona occidentalissima come noi parlando mi racconta che sta comprando casa in Italia a Imperia e gli dico qualcuno sarà di Imperia qui ma non ti viene in mente da pensare che un saudita si compra casa Imperia no Imperia mi dice perché ho degli amici lì ma perché una casa in Italia e questo mi risponde perché quando ci sarà la guerra con l'Iran noi in due giorni siamo distrutti perché basta che ci tolgano l'elettricità e l'acqua siamo in mezzo al deserto se ci tolgono l'elettricità e l'aria condizionata noi in due giorni moriamo d'estate e l'acqua idem dice io a quel punto non voglio finire come i siriani nei campi profughi perché vedi quei siriani che voi vedete arrivare in Europa e in Ungheria gli buttano i panini dalle vi ricordate queste immagini nei campi come nei campi di concentramento gli buttano i panini noi qua tutti i nostri professori di scuola sono tutti siriani perché nel mondo arabo il paese che ha la maggior conoscenza linguistica della letteratura della cultura il maggior livello educativo sono i siriani quindi tutte le scuole di noi paesi del golfo che eravamo un po' camelieri dice lui siamo un po' così abbiamo i soldi ma eravamo beduini fino a... tutti loro per noi sono la cultura e vedere cosa è successo sta succedendo a questa gente io non voglio finire così e quindi compro la casa d'imperia questo lasciamo glielo fare ecco vi dicevamo perché l'economist fa la copertina sulla prossima guerra perché nel... perché deve vendere la rivista settimanalmente e si fa una copertina dove fa vedere la sbocciatura delle margherite non è che tutto il mondo va a comprare per vedere come saranno quando sbocceranno le margherite quest'anno giusto? ma perché il ragionamento che viene fatto è davanti a uno storico mi azzardo ma dice ci sono tutti gli ingredienti che hanno portato alla seconda guerra mondiale cosa c'era stato prima della seconda guerra mondiale? dieci anni della grande depressione economica e noi in buona parte del mondo ci siamo noi a nord ovest ci siamo beccati dieci anni di crisi economica l'America un po' meno la Germania un po' meno ma gli altri dieci anni di crisi questi dieci anni di crisi non c'è una relazione di causa-effetto ma si sono accompagnati con una crisi della politica e lì le parole che tornavano in quegli anni erano nuove nuove ideologie politiche populismo anche lì soprattutto nazionalismo e noi siamo in un mondo dove il my country first si sta diffondendo lo dice Putin lo dice lo dicono tantissimi lo dice Trump lo dicono lo dicono anche lo dice anche Renzi quando va a Bruxelles quando dice tutti provano a dire my country first alcuni lo dicono e possono farlo altri ci provano perché se sei la basilicata non è che puoi dire my country first e in questo e c'è il terzo ingrediente un affollamento di potenze all'epoca le potenze erano la Francia la Germania la Gran Bretagna l'Italia se volete oggi queste potenze hanno altri nomi ma innegabilmente in questo mondo che da un'altra chiave di lettura è diventato più democratico perché tanti paesi hanno più potere non più solo uno o due o i paesi bianchi cristiani è un mondo comunque più anarchico secondo altri e in questo mondo più anarchico alcuni che sono appena arrivati in questo mondo di potenti alzano la cresta e vogliono mostrare di esserci e lì c'è un po' di confusione quando non c'è un equilibrio storicamente tendenzialmente chi è che riscrive l'ordine un conflitto come nel caso della seconda guerra mondiale l'ONU ha riscritto la pace poi crea l'ONU il quale ONU sancisce che chi ha vinto la guerra sta nel consiglio di sicurezza cioè sono i paesi che determineranno i destini del mondo nel futuro gli altri sono dei peones che partecipano all'assemblea generale non è questo l'ospicio che abbiamo ma sicuramente sappiamo una cosa che raramente le grandi guerre avvengono con calcolo deliberato molto spesso ci sono tensioni sono poi degli incidenti che fanno dall'uccisione di un principe ad altro che le fanno scatenare e molto spesso in quei momenti ci rendiamo conto che i leader che avevamo o votato o ci governavano avevano sottovalutato le conseguenze e ci hanno portato in un pasticcio più grosso di quello che era grazie mille grazie a Paolo Magri è stato un pomeriggio interessantissimo abbiamo saltato le domande al professor Barbero abbiamo ancora però dieci minuti per domande a entrambi quindi usiamoli bene ringraziamo però davvero i due docenti di oggi perché è stato un pomeriggio entusiasmante mi spiace che ho saputo adesso che molti del Politecnico sono assenti perché stanno dando gli esami qui al Politecnico quindi manca quasi più di un terzo della nostra platea allora pochissimi minuti diciamo due domande forse tre pronti lascia una mano alzata buongiorno nome e cognome ho anche solo scuola sì sì adesso lo attaccano è pronto prova sì buongiorno mi chiamo Francesco Piccoli studio secondo anno di ingegneria aeroespaziale volevo sapere da entrambi i professori come si inseriscono in questo governo del mondo citato dal professor Magri e le multinazionali citate alla fine dal professor Barbero come vedono le dinamiche di governance diciamo dettate anche da queste nuove entità che sono anche loro entità di governance grazie prima il passato vedi che fagatura ma allora il punto è questo fare lo storico ti vaccina da certe cose fare lo storico ti fa imparare molto rapidamente che nel presente nessuno ha mai capito nulla e che del futuro cosa già detta peraltro nessuno ha più palli d'idea fondamentalmente questo è un vaccino nel senso che resisti un po' allo sgomento di dirti ma in che razza di mondo stiamo vivendo e dove mai andremo a finire d'accordo in altre parole impari che non è facile tu l'hai fatto straordinariamente di concettualizzare una serie di fenomeni in trasformazione no dopodiché noi non sappiamo se andremo ai campionati di calcio nel Qatar nel 2022 in altre parole fare lo storico mi esime da rispondere alla sua domanda è lui che deve risponderle non sono così brillante per trovare una battuta per scappare anch'io la tua domanda no no ma allora il tema delle multinazionali del ruolo delle multinazionali nel mondo c'è sempre stato guarda io ho lavorato da piccolo alle Nazioni Unite per due anni e lavoravo al centro delle Nazioni Unite sulle multinazionali United Nations Center on Transnational Corporation che era stato creato quando in alcune parti a cominciare dal Cile la vicenda che ti ho raccontato del Cile prima cosa è successo in quella vicenda che il colpo di Stato l'ha fatto Pinochet c'erano delle supporti forti del Dipartimento di Stato della CIA di Kissinger che era il loro Dipartimento di Stato Nixon era d'accordo ma tutta questa roba qui era stata scatenata dalla IT&T una multinazionale americana che produceva produceva rameli in Cile per i telefoni eccetera che voleva stabilità e temeva l'instabilità e vengo l'instabilità del Cile perché questo avrebbe rovinato i suoi traffici quindi questo qua chiama l'ambasciatore l'ambasciatore e parte sta roba qua e l'ONU crea sulla spinta perché già allora c'era il sud del mondo sulla spinta del sud del mondo gli ex paesi delle colonie questo centro dentro le Nazioni Unite però contro di fatto contro le multinazionali ma il potere economico nel mondo era quello dell'Europa e dei Stati Uniti per cui Stati Uniti e europei non hanno mai dato soldi a questo centro perché quel centro era contro di loro e il resto del mondo il sud del mondo non era così ricco come adesso adesso arriverebbero i soldi in Arabia Saudita capisci? non c'erano soldi e quindi questa cosa è rimasta le viva chiare e per sopravvivere pensa all'egionia della sorte da center against multinational è diventato un center for multinational cioè che andava in giro per il mondo a stimolare l'arrivo delle multinazionali dietro una narrativa romantica che le multinazionali portavano benessere promozione delle piccole e medie imprese eccetera il tema come ti rispondo le multinazionali vogliono stabilità cioè il business vuole stabilità il business non vuole assolutamente a livello globale un next war chiaro? perché quello è l'elemento se tu guardi all'andamento dei mercati nel mondo cioè pensa a questi ultimi anni è successo di tutto ma i mercati borsistici finanziari sono andati bene i mercati o se sono scesi sono scesi e hanno recuperato nel giro di due o tre settimane parlo dopo la crisi del 2008 2009 i mercati hanno avuto se allarghi l'orizzonte le grandi crisi nelle grandi recessioni 2009 come 1919 quando è stata la recessione e nelle due grandi guerre quelli sono i momenti di cui tutti hanno il grande timore ma ciò detto le multinazionali vogliono la grande stabilità ma ogni multinazionale pur essendo multinazionale ha il cuore da qualche parte paga le tasse da qualche parte e in quel posto dove ha il cuore e paga le tasse non necessariamente favorisce politiche del suo governo che portino all'ordine tradotto se tu sei una multinazionale americana e hai un presidente che dice al mondo buy American hire America ti taglio le tasse ti faccio il piano degli investimenti e anzi ti metto anche una statua a Wall Street come il più grande uomo del mondo le multinazionali vanno dietro a quel presidente anche se quel presidente con le sue politiche non necessariamente porta a quella stabilità che loro vogliono nel lungo periodo perché una cosa è il lungo periodo una cosa è la trimestrale che l'azienda ha nei tre mesi dopo e se le tasse passano dal 31% al 20% tu la trimestrale la porti a casa ok e se poi il dollaro si svaluta ancora meglio ho dovuto non avendo la battuta ho dovuto parlare tre minuti in più una domanda ci sta ancora volendo beh anche due ah perché dobbiamo andare noi sono Catalina dell'istituto Pininfarina quarto anno informatica ciao volevo chiedere al professor Barbero quanto la qualità e la quantità dell'istruzione influenzia il cambiamento del governo e qui non dire che sei uno storico non puoi rispondere che devo rispondere io dell'istruzione dice lei ma guardi temo che la risposta non possa che essere banale e cioè tendenzialmente più le persone sono istruite e più è difficile prenderle per il naso questo può sembrare una cosa ottimistica è una questione statistica e poi è perfettamente facile prendere per il naso persone estremamente istruite come me e forse anche lui in certi casi ma in media complessivamente l'istruzione che poi è un termine sgradevole l'istruzione io lo trovavo più positivo quando se non altro era la pubblica istruzione nel nome del ministero la cultura diciamo la cultura diciamo la cultura sì per quanto anche cultura sembra pomposo però in realtà sappiamo tutti di cosa stiamo parlando cioè c'è una differenza tra chi non ha mai avuto contatto con altre persone con altre idee con altri paesi con quell'infinità di informazioni che si ricavano dai libri e da altre cose come internet e così via e chi appunto allora statisticamente si può senz'altro dire più la gente è istruita meno accetterà di essere governata da chi dice non preoccuparti so io qual è il tuo interesse non preoccuparti è Dio che mi ha messo qui per comandare non preoccuparti benché io sia la Coca Cola però faccio i tuoi interessi naturalmente ti fornisco una bibita deliziosa in passato infatti i regimi che giustamente dal loro punto di vista temevano la democrazia temevano anche la diffusione dell'istruzione nel settecento era perfettamente normale che un sostenitore di un regime aristocratico dicesse ma perché i figli dei contadini devono andare a scuola ma nemmeno per idea e in Georgia o in Alabama i piantatori ti dicevano ma perché i miei schiavi dovrebbero saper leggere e scrivere ma assolutamente guai quindi in linea di massima ferma restando che tante sono le cose che influiscono sulla realtà e quindi non è che un singolo settore ti aiuta però un'istruzione una cultura una capacità di ragionare diffuse rendono più difficile comunque l'instaurarsi di regimi oligarchici o dittatoriali o così via non vorrei aggiungere che a questo punto è preoccupante il fatto che da molti anni in Occidente si cerchi di ridurre il più possibile nei limiti della decenza apparente il peso della formazione dell'istruzione della scuola e dell'università se dietro ci sia la Coca Cola non mi azzarderei a dirlo però è una cosa da tenere d'occhio comunque ma se posso una battuta a supporto tu citavi il Settecento ma io conosco l'esperienza del Brasile la prima cosa che la dittatura fa il regime la dittatura degli anni Ottanta ha fatto in Brasile è di distruggere la scuola pubblica siccome nelle scuole se tu sei studentessa brasiliana se tu vai in una scuola pubblica a fare il liceo una scuola pubblica quella non a pagamento hai la certezza assoluta di non entrare all'università pubblica perché l'esame di ammissione è molto rigoroso e quindi e tu con la scuola pubblica non passi nell'università pubblica l'università pubblica è la migliore quella qualificata quindi tu di fatto escludi tutti quelli che vanno alla scuola pubblica da una crescita sociale e quello che la dittatura ha fatto è di distruggere quelle che fino a 30 anni fa erano buonissimi come da noi licei pubblici e rendere automatico che solo i ricchi potessero avere poi accesso all'istituzione universitaria e diventare elite e questo è un dato e la seconda riprova di quanto è stato detto se tu guardi come chi ha votato per la Brexit in Gran Bretagna hai una distinzione nettissima fra centro città e campagne e fra scolarità e non scolarità cioè la barzelletta che la Brexit avrebbe fatto tutti gli inglesi ricchi e avrebbe fatto tornare l'Inghilterra all'epoca dell'impero l'età dell'oro l'han bevuta quelli meno scolarizzati tutti gli altri non l'hanno bevuta e qui torniamo a quanto dicevi prima grazie grazie a Paolo Magri grazie a Alessandro Barbero a chi ci ha seguito in streaming e quindi anche a Piero Angela e a tutti voi la prossima settimana riprenderemo da dove siamo arrivati oggi perché il tema oggi era il mondo cambia e Prodi il romano Prodi partirà proprio di qui il mondo cambia e l'Italia aggiungerà e quindi martedì prossimo l'Italia no dice Barbero ma egli è storico quindi non conosce il futuro grazie arrivederci